ciao a tutti amici di seblogappsblogspot.com continuiamo oggi a vedere dei tutorial relativi alle applicazioni con schermate multiple, in particolar modo andremo a vedere in che modo è possibile copiare i blocchi da uno screen all'altro questa è una cosa che mi è stata chiesta effettivamente non è possibile farlo direttamente all'interno di App Inventor ma è possibile farlo con dei trucchi abbastanza semplici ripartiamo dal nostro progetto del simple multiscreen e lo chiamiamo lo rinominiamo in multiscreen copia blocchi aspettiamo un attimo ecco qua ci carica il nostro multiscreen copia blocchi quello che vogliamo fare è in pratica immaginiamo di avere un'applicazione che avevamo sviluppato precedentemente in una singola schermata e che vogliamo a questo punto aggiornare ad un'applicazione in multiscreen magari noi qua dentro avevamo scritto tutte delle nostre routine che non vogliamo ovviamente andare a riscrivere manualmente nelle nuove schermate ma che vogliamo prendere da qua e riutilizzare quindi per esempio non lo so supponiamo che qui dentro adesso giusto per farvi un esempio avessimo delle appunto degli altri delle altre routine anche più complicate di queste vogliamo portarle su un eventuale screen 2 e screen 3 allora iniziamo aggiungendo allora queste due schermate quindi aggiungiamo lo schermo 2 e aggiungiamo lo schermo 3 ovviamente poi questi potrete andare a chiamarli come ne avrete bisogno vedete ovviamente che su screen 1 ho questi blocchi però su screen 2 un attimo che si rinfresca e su screen 3 il blocks editor è completamente vuoto ora se io volessi copiare i blocchi da screen 1 per esempio proviamo con ctrl c ad andare a screen 2 che è vuoto ctrl v dice che non si possono ovviamente copiare i blocchi da un screen all'altro almeno attualmente non è possibile farlo sarebbe molto bello poterlo fare speriamo in futuro lo implementino degli utilizzatori di App Inventor hanno scoperto un piccolo trucco che ci permette in pratica di replicare quello che abbiamo adesso su screen 1 anche su gli altri schermi vediamo come si fa allora torniamo in my project abbiamo multiscreen copia blocchi dobbiamo scaricare il sorgente che vi ricordo viene scaricato come un file zip andiamo a metterlo per esempio in tutorial copia blocchi vediamo che è appunto un file zip andiamo ora scusate a vedere nella cartella questo file io qua ho 7 zip comunque non ci sono molte differenze estraiamo il contenuto di questo zip cosa abbiamo asset source young android project quello che ci interessa sta dentro source se vedete source appinventor ok questo sarà il vostro nick di appinventor il nome del progetto abbiamo screen1 blk che sta per blocks editor e scm che sta per designer editor screen qualche cosa abbiamo vedete screen2 e screen3 che ora sono a 0k quindi qual è stata l'idea di questo utilizzatore ha detto se io provo a prendere screen1 e ricopiarlo su screen2 e cambiandoci in pratica solo il nome del file vediamo un po' cosa succede allora facciamo così screen2 e screen3 li possiamo cancellare prendiamo lo screen1 e lo copiamo due volte ed andiamo a rinominarlo in screen2 scm screen2 blk questo sarà screen3 scm e screen3 blk torniamo su fino a questo livello e ricreiamo intanto l'originale lo potete salvare con estensione back come backup per esempio andiamo a fare questo e con 7zip lo facciamo aggiungi a tutorial copiablocchi punto zip è importante che non ci siano i path quindi non ci sia documento in setting tutto quanto ma che parta dalla directory asset source young android project il nome non credo che sia importante proviamo a lasciarlo così ora dobbiamo cancellare ovviamente questo progetto perché altrimenti quello che andiamo a caricare avrà lo stesso nome e facciamo upload source come sorgente gli diamo andiamo a trovare questo tutorial copiablocchi lo zip che abbiamo appena fatto speriamo che funzioni tutto quanto correttamente un attimo che sta lavorando come vedete ci ha aperto il nostro progetto tutorial copiablocchi il nome è questo col punto zip ma diciamo che ci importa poco quello che è interessante capire e bello da vedere è che screen 2 e screen 3 come vedete contengono esattamente quello che avevamo all'interno di screen 1 e anche nel blocks editor se vado su screen 2 vedete che avrò gli stessi blocchi che ho su screen 1 c'è un piccolo problema che i più attenti di voi avranno sicuramente notato anche quando switcho su screen 2 anche questo qua è scritto screen 2 qua mi resta scritto screen 1 e sul blocks editor anche rimane scritto screen 1 stessa cosa per screen 3 quindi sempre lo stesso chiamiamolo genio scusate non sono informissima cosa ha detto andiamo a vedere cosa c'è qui dentro di nuovo in source app invent sublog cosa contengono questi file scm allora andiamo ad aprirlo con wordpad va benissimo blocco note ok e vedete che tra queste varie cose c'è il name ovviamente screen 1 per screen 2 non va bene quindi lo cambiamo e salviamo il file andiamo su screen 3 scm anche lui lo apriamo con blocco note con qualsiasi editor che vogliate lo chiamiamo screen 3 salviamo ricreiamo il file zip quindi 7zip per esempio aggiunge tutorial coppia blocchi zip dovremmo esserci dovrebbe avere fatto l'operazione non possiamo caricarlo perché ci direbbe che è già esistente un progetto con questo nome quindi andiamo a cancellarlo e facciamo l'upload della versione aggiornata aspettiamo ancora un secondo vedete screen 1 screen 2 screen 3 ho tutti i temi schermi e questa volta anche si chiama screen 2 quindi anche su blocks editor avrò screen 2 screen 3 anche lui sul blocks editor ovviamente ovviamente il codice qui è sbagliato perché il text non ci sono più i nomi degli schermi non sono più l'about e l'help come abbiamo visto l'altra volta ma saranno screen 2 e screen 3 screen 2 facciamo che apra aspettiamo un attimo screen 2 andrà ad aprire forse si è bloccato andrà ad aprire screen 1 e screen 3 e screen 3 andrà ad aprire con questo tasto screen 1 e con questo tasto screen 2 giusto per farvi un esempio ovviamente qua da design editor poi sarete liberissimi di fare quello che vorrete con la vostra applicazione ovvero non lo so se volete cambiare colore a questo pulsante se volete cambiare il font se volete fare qualsiasi operazione però la cosa molto interessante da capire è che comunque tutti i blocchi che avevamo in screen 1 vengono replicati in screen 2 e anche in screen 3 l'applicazione la potete provare vi ricordo andando a fare il package for phone col download to connected phone e questo vi permette appunto di creare delle applicazioni con schermate multiple magari partendo da una singola schermata per poi espanderla ad altre schermate utilizzando lo stesso codice ovviamente ora la cosa sembra poco utile in quanto il codice che abbiamo qui in questo screen 1 è proprio poca cosa però pensate a delle applicazioni più complicate dove magari abbiamo scritto delle routine complesse eccetera che vogliamo avere anche nelle altre schermate noi possiamo fare questo procedimento per avere una base poi cambiare sullo screen che ci interessa cancellare i blocchi che non ci interessano più sistemare la nostra applicazione e di sicuro avremo fatto più in fretta che non riscrivendola da capo bene spero che questo piccolo tutorial vi sia piaciuto e lo riteniate interessante e vi ritorni utile venite a trovarmi su seblog android apps e sul mio blog come sempre mi fa piacere se fate un più uno ai video o un più uno su google plus come avrete visto e notato ho anche aggiunto un pulsante per le donazioni che sono eventualmente sempre benvenute mi scuso se ultimamente non sono riuscito a fare tanti video spero di riprendere al più presto ci sentiamo presto ciao a tutti ciao a tutti